Comunque per Schaposkopp, che si fa murare anche in questa circostanza, arriva dalla seconda linea che ità, poi salva Mosic, attacca Schaposkopp, non riesce nemmeno in questa occasione a mettere il pallone a terra, poi c'è il muro di Mosic, Sokev Groser, e Verona riesce con il muro a risolvere.